L'area del Parco della Marinella in via Merigo Vespucci è stata l'oggetto del vertice di ieri 7 marzo in Prefettura. Dopo l'incendio della scorsa settimana si è riunito un tavolo tecnico interistituzionale per restituire dignità all'intera zona in tempi ragionevoli, anche attraverso un trasferimento degli insediamenti di Rom, come ha precisato lo stesso Prefetto. L'obiettivo è quello di, in tempi ragionevoli, non dico brevi ma ragionevoli, provare a restituire la necessaria dignità a chi occupa oggi il Parco della Marinella, insieme all'altro di evitare qualsiasi ulteriore rischio che purtroppo continuano a gravare su quella struttura. Oltre al Comune di Napoli erano presenti rappresentanti della provincia, dei ministeri della cooperazione internazionale e degli interni, dell'Agenzia del Demanio, proprietaria dei suoli, e del questore Luigi Merolla. Un risultato concreto è stato l'accordo per il quale l'Agenzia del Demanio, in attesa del decreto governativo che trasferirà la zona all'amministrazione comunale, concederà i suoli in locazione a canone agevolato, per consentire al Comune di avviare finalmente le opere per la realizzazione del Parco. Nell'incontro si è affrontata anche la questione più generale dell'accoglienza dei Rom. Una comunità di oltre 3.000 persone, per la quale occorre individuare soluzioni alternative come strutture abitative adeguate, per le quali il Sindaco ha ricordato che andrebbero sbloccati i fondi europei destinati alla sicurezza. Si pongono una serie di obiettivi, alcuni a brevissimo termine, che sono appunto quello di trovare una sistemazione idonea per delle persone, e questo è l'obiettivo immediato. Ma abbiamo ragionato anche su obiettivi a medio termine, perché ovviamente sulla città di Napoli insiste una comunità Rom di oltre 3.000 persone. Quindi Napoli è ovviamente città della tolleranza e dell'inclusione, quindi c'è bisogno di risorse economiche e di tavoli istituzionali e tecnici per realizzare operazioni a breve e a medio termine. Oggi abbiamo fatto un passo avanti molto significativo in questa direzione, poi nei prossimi giorni ci saranno anche dei dettagli che potremmo offrire alla stampa su quello che faremo.